al jazeera nuova escile si scontrano nella decima giornata della serie a della cpc elite open della t league subito in avanti nuova escile con questo cross l'aggancio bellissima c'è il diagonale vincente poi l'1 a 0 di podie grandissimo gol di podie e poi c'è la attenzione vediamo la ribattuta rete il pareggio immediato di careda 1 a 1 al jazeera ci riprova di nuovo nuova escile ma non ci riesce ancora al jazeera con questo tiro il tiro vicinissimo al al bersaglio ancora c'è il 2 a 1 il sorpasso di al jazeera con melis 2 a 1 2 a 1 al jazeera attenzione vediamo c'è il diagonale bellissimo il 2 pari di corona secondo tempo che inizia col risultato di due pari al jazeera tiene bene attenzione vediamo il tiro smalacciato nella riflessa ancora la al jazeera il palo vicinissimo al 3 a 2 al jazeera ancora al jazeera con questo tiro in mezzo il vantaggio il nuovo vantaggio con la doppietta di careda ancora in avanti nuova escile c'è la rete c'è il 3 pari di podie doppietta per lui attenzione vediamo e c'è il gol c'è il 4 a 3 della nuova escile con la tripletta di podie e poi le 5 a 3 di raga così con con trinceri ancora tutto facile adesso per nuova escile 6 a 3 di pomata 6 a 3 tutto facile podie il settimo gol è il suo poker quarto gol e poi vediamo siamo alle ultime azioni vediamo tutto è tutto comodo comodo 8 a 3 8 a 3 con la doppietta di corona e finisce così nuova escile batte al jazeera per 8 a 3 ciao